Come vedete qua non siamo in zona nostra, questo non è l'Auchan, questo è il Conè Questo invece è Valerio che da stamattina quando siamo partiti da Mestria per venire trovare il nostro presidente sta cercando di mettere a posto un ton-tom che più di un ton-tom mi sembra una cacchetta perché non va. Vediamo un attimo di movimenti del Bae. Ciao a tutti. Allora acer, certo che è un acer ma non è certo che funzioni, dovremmo fare una cosa per vedere se riusciamo in una strada migliore per andare a casa, un'ora che mi ho messo da Mestria qua perché posso fare strada. Ma ecco chi sta facendo l'operazione vedete con molta attenzione. Nuovo itinerario. Nuovo itinerario. Casa. Casa. Telefono casa. Un bel itinerario di ritorno. Sì. Ok? Perfetto. Perfetto. Si parte. Da Conè è tutto. Buona giornata.